Un saluto a tutti cari amici e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi la partita decisiva per l'assegnazione del primo posto nella finale dell'Hirting Masters. Una partita che mi è piaciuta tantissimo tra due titani del gioco rapido, Karzen e Nakamura. Ma prima di iniziare lasciatemi salutare e ringraziare Brainer e Danilo, due nuovi abbonati alle mie video lezioni, che è una libreria di video che trovate qui sul canale YouTube, che si arricchisce mese dopo mese con nuove lezioni, che adesso conta già 22 ore di video, alle quali potete accedere integralmente per soli 2,99€ al mese. Stiamo facendo numeri record e quindi vi aspetto sempre più numerosi. Ma passiamo al video di oggi. Per accedere alla finale Nakamura e Karzen hanno già giocato 4 partite rapide a 15 minuti, finite tutte in parità. E allora si deve giocare l'Armageddon. Nell'Armageddon il bianco ha i soliti 15 minuti di tempo, il nero invece ha meno tempo sull'orologio, ma per vincere gli basta pattare. Quanto tempo ha il nero? Eh, stavolta lo decidano i giocatori stessi, con un'asta in busta chiusa. Karzen ha proposto, pensate, un secondo in meno di Nakamura e quindi guadagna i pezzi neri. E deve giocare con 8 minuti e qualcosa sull'orologio. Ricordiamoci però che nell'Armageddon non c'è nessun incremento di tempo mossa dopo mossa. Quindi questo è un ulteriore fattore da tenere in considerazione. Non dimenticate di like al video e partiamo. Perché Nakamura di bianco apre la partita con cavallo in F3. È l'apertura a reti che controlla le due importantissime case centrali e impedisce al nero di spingere in E5. Karzen gioca il cavallo in F6, mossa più giocata che impedisce E4. Allora Nakamura apre il fianchetto con G3, arriva a C5. Pensate, ricordiamoci da questa, solo la quarta mossa più giocata eppure è una tra le migliori. Allora Alfieri in G2, cavallo in C6. Arrocco corto per il bianco, il nero può anche giocare subito E5. E seppur non sia la più giocata, è una linea con il quale il nero ha ottimi risultati. E invece Karzen spinge in D5. Migliora con i due pedoni affiancati il controllo sul centro e in particolar modo nuovo controllo sulla casa E4. E allora Nakamura gioca D3 che è la continuazione principale, eppure al computer questa mossa piace poco. Il nero in questa partita ha già completamente equalizzato. Karzen spinge anche in E5, arriva E4 e qui D4. Come mai Karzen non ha catturato in E4? Guardiamolo velocemente, capiamolo bene. Perché dopo D per E4, D per E4, se il nero pensa di vincere il pedone con la cattura del cavallo, arriva donna per donna con scacco. E guardate, se si riprende di cavallo, si perde il pedone centrale. Gli rimane oltretutto l'altro cavallo sotto attacco. Guardiamo che succede, se cavallo per cavallo il cavallo cattura, cavallo in F6, il bianco si è ripreso il pedone ed ha due tempi di vantaggio nello sviluppo. E se si riprende di re, comunque il bianco si riprende il pedone perché si rifarà sul cavallo in E4 e il nero non può neanche più arroccare. Allora questa D4 che cosa fa? Prende ancora più spazio. Il lato negativo di questa mossa è che, vedete, si formano dei buchi sulle case chiare. E allora Nakamura gioca subito A4. Come mai? Lui vuole impedire anche in futuro la B5 del nero perché vuole portare il cavallo in C4. Un cavallo che attaccherà di nuovo il pedone in E5. Allora, alfiere in E7, cavallo in A3, alfiere in E6, va a sviluppare e a controllare questa casa C4 e arriva cavallo in G5. Non si vuol perdere la coppia perché oltretutto tra i due alfieri, quello chiaro e quello migliore del nero perché non va a sbattere sui suoi stessi pedoni al centro che sono su casa scura, donna sotto attacco, arriva F3. Allora alfiere in H5, cavallo in C4. Cavallo in D7, il cavallo del bianco è sotto attacco e si porta in H3. F6 e una sola partita rimasta in database, giocata lo scorso anno, non tra grandi maestri ma comunque tra giocatori titolati e vinta dal nero. Ora il bianco in quella partita aveva giocato la buona alfiere in D2 e invece alla mossa a 13 arriva la novità di Nakamura che rende questa partita originale. Cavallo in F2. Allora Rocco corto anche per Karsen, H4, vuole giocare alfiere in H3 senza farsi bloccare il pedone. Alfiere in F7, alfiere in H3, cavallo in B6. Secondo attacco sul cavallo, Nakamura gioca a B3. Cavallo per cavallo e allora Nakamura ricattura verso il centro, alfiere in D6 e arriva la buona spinta F4. E per F4 il pedone G ricattura e pensate dopo 19 mosse sembra una partita chiusa. In realtà è una posizione interessantissima e complessa, tanto che Karsen commette un errore. Gioca donna in C7, attacca per la seconda volta il pedone. Il bianco però può giocare un'idea sorprendente. Ve la dico io, ve la faccio vedere io senza quizzone. Nakamura sposterà il cavallo per difendere il pedone. E invece è interessantissimo. Era il sacrificio di pedone E5, un sacrificio di pedone per liberare la casa E4 per il salto del cavallo. E dopo F per E5, F5 salva il pedone. Guardate, controlla case importantissime che riducono l'attività dei pezzi del nero. Arriverà cavallo in E4, arriverà anche alfiere in G5 con una grandissima attività dei pezzi bianchi sul lato di re. Ritorniamo indietro, invece non la trova Nakamura, gioca cavallo in H1, pedone protetto per la seconda volta. Re in H8, cavallo in G3, vuole saltare in F5. E allora gli odo impedisce Karsen perché gioca G6. Donna in F3, qui bisogna completare lo sviluppo. Torre in A che va in E8, re in H1, libera la colonna G. Allora alfiere in E6, cerca il cambio pezzi, perché ricordiamoci a Karsen basta pattare. E qui praticamente tornare indietro vuol dire rendere passivo questo alfiere. Allora il cambio è quasi obbligato. Alfiere per alfiere. La torre ricattura in E6, alfiere in D2 connette le torri. E arriva F5. Ora attenzione perché la cattura sarebbe deleteria per il bianco. Guardate un po' che cosa succede. Dopo E per F5 non giocata da Nakamura, il nero ricattura e con le due torri sarà lui ad avere la supremazia sulla colonna aperta G. E allora dopo F5 Nakamura spinge in E5. Alfiere sotto attacco ritorna in E7. Il pedone non si può difendere e allora giustamente viene avanzato in H5. G per H5, torre su colonna aperta, torre in G6. E qui siamo a un altro momento importante perché bisognerebbe riprendere di cavallo. Tutte volte faccio il video e arriva il postino. Nakamura lo farà di donna. Donna che cattura in H5. E pensate Karsen avrebbe la possibilità di un colpo decisivo. E qui veramente siamo arrivati al nostro quizzone. Combinazione in due mosse, mettete pure in pausa se volete, e da voi la parola. Ritorniamo alla partita. Guardate interessantissimo. Sacrificio di cavallo in E5. Che va accettato perché se no vince un pedone gratis. Il pedone ricattura e adesso non la cattura del pedone, ma donna in C6 con scacco. Uno scacco micidiale perché la donna adesso supporterà, dopo che il nero ha spinto F4, torre in H6 che vince la donna. E allora il bianco in questa posizione è perduto perché guardate che succede. Non si può interferire di torre perché la torre adesso è inchiodata e non difende più il cavallo. E quindi torre che cattura il cavallo vince subito. Non si può neanche giocare Re in H2 perché arriva F4 e anche in questo caso la partita finisce qui. L'idea migliore a disposizione del bianco è ricedere il cavallo. Cavallo in E4. Ora attenzione perché questo è inchiodato. Torre per torre con scacco. La torre ricattura. F per E4 minaccia E3 di creare il pedone passato. E quindi è ottenuto di bloccare quasi totalmente l'alfiere del nero. Scusatemi, l'alfiere scuro del bianco. Alfiere in H6 ma prima di spostare la torre c'è lo scacco di scoperta E3. Re in H2, la torre sotto attacco da scacco. Il nero sta chiaramente vincendo questa partita. Ritorniamo a noi ma anche Karzen non trova il colpo decisivo e gioca. Cavallo in B4. Attacca il pedone. Ora probabilmente proprio in vista di questo scacco perché si è liberata comunque questa casa C6. Nakamura commette un errore e gioca donna in F3 per proteggersi da questo scacco. Invece bisognava tenere la donna sulla colonna H. Giocare il re in H2 che liberava anche l'azione della torre. E in caso di scacco il re si spostava tranquillamente in F2. E allora Karzen vince un pedone e attacca la torre. Torre in A che va in B1 e attacca il pedone. Cavallo in B4 gli richiude la colonna. Torre in G2, donna in C6 e guardate questa mossa forza il cambio donne. Questa donna non si può spostare assolutamente perché guardate che succede. Di nuovo se donna in E2 sembra proteggere tutto ma spostandosi la torre rimane inchiodata e di nuovo cade il cavallo con posizione disastrosa. E allora Nakamura è costretto a cambiare le donne. Donna per donna, il pedone B ricattura in C6, cavallo in E2. Cavallo per pedone, torre in B7 e attacca l'alfiere e attacca il pedone. E allora torre in E8 protegge l'alfiere, cavallo in C1 si va anche al cambio dei cavalli. Cavallo per cavallo, l'alfiere ricattura, arriva a 6. E allora torre in B6 vincerà un pedone, arriva a 5 perché non vuole Karsen farsi creare il pedone passato lontano. E alfiere in D2. Cosa dovrebbe fare adesso Karsen, sempre nell'ottica anche della patta, cambiare subito le torri. E invece arriva D3 e pensate questa mossa ridà a Nakamura una sottile speranza di vittoria. Cosa dovrebbe fare però Nakamura? Dovrebbe giocare torre in B7. Cosa fa questa torre in B7? Attacca l'alfiere e quindi blocca questa torre. Alfiere in D8 sembra proteggere il pedone. E' vero, questo pedone non cade ma arriva torre in D7, la torre è sempre bloccata e D3 cade sicuramente. E il bianco ha di nuovo qualche speranza di vittoria. E invece Nakamura cattura, prima di tutto cambia le torri, torre per torre, il pedone ricattura, re in G2, re in G7, cattura quella torre in C6. Ma guardate che succede, torre in D8 dietro il pedone passato, che sarà difficile adesso attaccare anche perché è su casa chiara, re in F3, torre in D4. Addirittura è Karzen in questo finale ad aver preso l'iniziativa, perché come sappiamo Karzen nei finali è veramente un mostro. Torre in A6, torre per pedone in C4, torre per pedone in A5 protegge il pedone, ma la torre è messa dalla parte sbagliata del pedone. Dovrebbe stargli dietro per spingerlo verso la promozione. E oltretutto, se contiamo bene il materiale, Karzen ha un pedone di vantaggio. E allora arriva torre in C2 che attacca l'alfiere, alfiere in E3. Ora, torre in H2 vince sicuramente la partita, perché guardate che succede. Se la torre si sposta, non si può catturare il pedone, perché arriva D2, guardate, l'alfiere fa da scudo alla sua torre, il re non può andare in E2, il pedone promuove sicuramente. E invece Karzen avanza il pedone in C4, quindi la partita rimane in totale equilibrio. Torre in A7, inchioda l'alfiere, re in F8 lo schioda e Nakamura inizia ad avanzare il pedone passato. Arriva infatti a 5, torre in A2, ma Karzen libera la colonna C e si piazza dietro il pedone passato. Arriva anche a 6, C3, torre in D7. Ora D2, seppur sia una manovra complessa, vince la partita, ma qui c'è poco tempo per pensare, perché Karzen aveva soltanto 8 minuti. E essendo nero nell'armageddon, ha in mente soltanto la patta. E allora elimina il pedone passato, torre per A6, torre per D3 e piazza la torre in C6 a proteggere il pedone passato da dietro. Allora, alfiere in C1 ne blocca la promozione, re in F7, torre in D7, arriva anche C2, in modo tale che il pedone ha un passo dalla promozione. Torre in B7, re in E6, alfiere schiodato, re in E2. E allora si va alle semplificazioni, arriva G5, F per G5, l'alfiere ricattura, quindi Karzen ha reso in pratica il pedone. Come mai? Perché alfiere che cattura in G5, il pedone promuove, arriva un'intermedia, torre in E7 con scacco, ma il re può scappare. Si muove in D5, alfiere per donna, la torre ricattura, totale, parità materiale. Nakamura migliora il re, re in F3, ma non lo fa più andare avanti Karzen. Torre in C4, non fa avanzare il re bianco, non c'è più niente da fare a questi livelli per vincere la partita, e i due si accordano per la patta. E quindi patta nell'armageddon vuol dire vittoria al nero, cioè a Karzen, che arriva in finale ed aspetterà come sfidante il vincitore del tabellone dei ripescaggi. Mi è piaciuta molto questa partita con tanti temi, spero che sia piaciuta anche a voi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per guardare insieme tutti i migliori tornei. Io, come al solito, vi ringrazio tantissimo per l'ascolto e noi ci vediamo domani con la super finale. A presto! Grazie a tutti!